Io credo che la signora Rossini abbia perso l'ennesima occasione per tacere. È bene ricordare a questa signora che lei appena un anno fa è stata pesantemente giudicata dai cittadini, è stata cacciata dal Comune e dai cittadini, riuscendo a portare i consensi del PD a Castel di Lama da un 71% ad un 21% e questa la dice lunga. Mi sorprende che ancora l'elemento di punta, la figura di punta di questa sezione PD a Castel di Lama sia ancora la Rossini. A me questo non può fare altro che fare piacere. Ho ascoltato l'intervista che ha rilasciato, la Rossini parlava anche della fiera, ha avuto il coraggio di prendere il discorso della fiera. Beh, io volevo ricordare alla Rossini che io ho lo storico di tutti i contributi che negli anni lei e chi l'ha preceduta, e parlo di Domenico Re, hanno erogato soldi dei cittadini per realizzare questo evento. Ho uno storico con degli importi che variano da 68-70 mila euro fino a 27-28 mila euro, che ogni anno questi signori continuavano a derogare, senza dire mai ai cittadini questi soldi, perché cosa venivano utilizzati, ma quali tipi di incassi producevano all'interno della fiera. Dico questo perché? Perché la Rossini non si è fatta mai consegnare dal Comitato Promotore Fiera un resocondo economico, cosa che io ho fatto, mi sono fatto consegnare, sono stato il primo sindaco a pretendere un resocondo economico, e a breve presenteremo a tutti i cittadini il resocondo economico di questa ultima edizione dell'edizione 2015, una edizione che possiamo tranquillamente dire ha battuto record di presenze, di partecipazioni e quant'altro. E non lo voglio anticipare, ma ci saranno delle grosse sorprese. Cosa dire della signora Rossini? Verrà ricordata sicuramente dai cittadini di Castel di Lama per aver lasciato il nostro Comune sommerso di debiti. È stata molto brava a dilaniare tante risorse del nostro Comune. Un esempio su tutti, è riuscito a spreperare circa 700.000 euro solo per mantenere lo staff in questo Comune. Io il primo giorno che mi sono insediato ho eliminato lo staff, la macchina amministrativa non si è interrotta, non si è rallentata e il Comune è andato avanti lo stesso. Ma ho fatto tanti altri interventi proprio per correggere alcune malefatte fatte proprio dalla signora Rossini. Quindi che dire, io posso accettare consigli da tanti, da molte persone, non dalla Rossini.